Ok ce ne sono due o tre proprio qua Uno, due, tre Uno, due, tre Uno, due No, la pistola Aaaaaah Bella a tutti ragazzi come va? Spera bene qui e benvenuti ancora una volta In un'altra mia video ti ritorno in Battlefield 4 E oggi cercheremo con un nome ancora proposto da voi ragazzi Con il Saiga Train, un ex membro HTG Ciao bello E Dunphy pure lui ex membro HTG Ora vi farò vedere un gameplay con il Saiga Nella mappa canale di Noshar Dragon Ball 2015 In Battlefield 4 Perché in questa mappa? Perché all'origine del clan HTG Eravamo quasi ogni sera a fare delle pompate In questa mappa canale di Noshar E facevamo delle pompate con questo Saiga Che tremava tutta la mappa Finalmente si è caricata la mappa Quasi Ok finalmente E' la mia prima partita della giornata ragazzi Quindi per questo ci ha messo tempo Allora il Saiga dove sei? Fucile pompa Non mi direi che non l'ho sbloccato Eccolo qua Saiga come l'abbiamo il tempo che carica tutte le texture Qua ci volete un secolo Non so nemmeno cosa li ho messo Come si fa a vedere cosa li ho messo? Boh sapete che facciamo? Partiamo senza niente Allora abbiamo due frbillatoi kit E siamo perfetti per la partita Rianimiamo un'arma Rianimiamo un'arma Ah avete visto come rianimiamo un'arma? Wow Ok Vuol fugire a pompa Vai come l'agga Come l'agga Come l'agga Che ci vuole caricare sta maledetta mappa Io lascio con sto fugire a pompa Ah Oh Adesso come ho del male a uccidere un nemico A questa distanza Vabbè non importa Eccolo qua Ce n'è uno Non ce n'è più E' scomparso Dai Lasciamo con un pazzo la Claymore E' nostra No In testa gli ho sparato L'ho solo hittato Ok Mamma mia Mamma mia Mamma mia Quanti ricordi ragazzi Andiamo da questo lato Ok Oh 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 Ok Pepe Da dove? Oh amico Tu che facevi? La raccoglievi i funghi? Va bene Bella partenza ragazzi 5-0 Non è male Cerchiamo di rifare ancora 5 kg Avremo un bel l'ascore di 10-2 Ributtiamoci nella mischia Ah lì Ah lì Dove siete? Pinko pallini Pinki pallini Pinko pinko Pongo Pongo Guardate quel che fa quello da te Ma io ero nascosto Ma ero già dietro al muro Netcode Svegliati Date una svegliata Tu non è che mi riano No? Ah la 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 Questi giorni Ma sempre allo stesso punto Spono Ah la un'altra laggata Dai Dai Oh un cecchino In fondo Oh mi hai lisciato Mi hai lisciato bello Se riesco a salire con il mio Con il mio fucile a pompa Sapete cosa vi faccio ragazzi Vi faccio veramente male Ma quello non era un nemico Coricato là Eccolo là Io ho una bella granata Tempo che si alza lo prendo No è solitato con la granata Ma che Ma stanno scherzando Ma stanno scherzando ragazzi Dobbiamo fare il giro Dobbiamo riuscire a Ok Ce l'abbiamo fatta Dai Dobbiamo riuscire a salire ragazzi Ok Ce n'è uno Ce n'è uno Ce n'è uno Bello Ok Ce n'è ancora uno Non venire a offendermi Bello 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 Mamma mia Dai 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 Ricarichiamo e riasciamo Perfetto Abbiamo liberato la zona Ok Ce ne sono due Tre Proprio qua Uno Due Tre Uno Due Tre Uno Due No La pistola Ok Amico Tu con la pistolina Cosa fai Aspetta che sono ferito Aspetta ce ne sono due 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 Aia Non ho fatto il tempo Sforare Maledetti Allora Non è male no Col giocare con il fucile Pomba ragazzi È divertentissimo Perfetto Tre Deci due Abbiamo pure battuto La nostra Il nostro sogno Di fare Dieci due Dai Ripartiamo Facciamoci ancora Una bella vita ragazzi E poi possiamo finire Questo bel gameplay Con il saiga Mamma mia Questo lo riamo o no? No Amico Hanno cambiato gli spawn Oh Quello l'ho ucciso Senza vederlo ragazzi Ho sparato perché ho visto Il mio alleato A sparare in quella zona Ciao Wow Wow Lasciamolo 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 Ok Abbiamo lasciato Dai Speriamo che ce ne sia ancora uno A questa distanza Cosa gli faccio? Mamma mia Quattro Hitti marker Gli ho fatto Quattro E solo 62 Di assistenza Meno male che sono veniti i colpi Se non avrei spaccato ancora Un colpo Dai Buttiamoci ancora una volta Nella mischia Ho visto il rosso Mi sembrava un nemico Ma no Era un cavolo di Fumo oggi No Dai che saliamo Dai che saliamo E dai E dai Ci siamo Ce la siamo fatta Ci sono i miei alleati qua Come mai A destra A destra A destra A destra A destra Eccolo la uno Eccolo la uno Eccolo la uno No dietro le spalle Non vale Aia Bella amico Chi vuoi un caffè E un cornetto Aspetta che le vado a comprare A teleport Peccato che sei morto Volevo farti io La festicciola Aspetta Aspetta Io ritornerò Come ti chiami Dead Dead Non so cosa Vabbè Cerchiamo di trovare Questo dead Ale Dai Andiamo a prendere dead Dead Ce n'è uno qua A sinistra Dai cerchiamo Eccolo la Eccolo la Eccolo la Sta andando a correre Il mio alleato Ok Dai 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 Ok Ce n'è più di uno Ora non so come lasciare Facciamo una granata Oh che cosa è stata Sta cosa Ma che cosa hanno lanciato Boh Mi sembra che Da là è una brutta Cosa Non si può passare Noi cerchiamo di passare da qua 100% di vita 9 colpi Ok Perfetto Ok Dai dai Che ce l'abbiamo fatta Nascondiamoci qua dietro Oh Dead Ciao Oh Affacciati Avete visto come abbiamo liberato la zona Amici potete avanzare Allo sono io Sono io Potete avanzare Ce l'abbiamo fatta Abbiamo Fatta disparire dalla circolazione Però col fucile a pompa Ok Bella A me piace Perché ora Se vogliono uccidermi Devono spararmi in testa Non ho granate Peccato Ok Abbiamo fatto due T-marker Dai lasciatemi Lasciatemi Chi è che mi insulta No Ne ho ancora nessuno Beh Meno male Meno male Oh Questa arriva con l'M320 Oh Ce n'è uno a destra Te l'ho detto Ok L'abbiamo Ci sbola lui Perfetto Dai Ale Avanti il prossimo Avanti il prossimo Abbiamo finito Questa maldissima partita Con il Saiga Dai Allora Cosa abbiamo fatto In questa bella partita 27-4 Ragazzi Come Prima partita Della giornata E per uno che non riesce a giocare con il fucile a pompa Io dico che questo è un ottimo gameplay Spero che questo piccolo video vi sia piaciuto E niente Io vi do appuntamento in uno dei miei prossimi video Ciao bene Alla prossima